Buonasera, questa sera abbiamo ospiti al Chivani's Club di Vercelli, di cui mi onoro di essere presidente, l'amico Luca Brusotto, recentemente iscritto al nostro sudalizio, che ci parlerà di quello che per lui è il pane quotidiano, ma che per lui è un argomento un po' ostico, e cioè quello che il notaio Camillo Leone chiamava in modo ironico le mie anticalie. Quindi Luca ci porterà nei meandri del Museo Leone di Vercelli per farci ammirare per ora virtualmente quelli che saranno oggetto di una nostra visita complessiva in primavera, in modo tale da vedere le collezioni del notaio Camillo Leone, per capire quali sono state le molle che hanno fatto scattare questa passione, diciamo così, del collezionista doc, vero? E quindi oltre a essere orgoglioso di aver iscritto un nuovo socio come Luca Brusotto, sono sicuro che la serata sarà molto piacevole, anche perché Luca ha una dialettica formidabile e quindi sicuramente sarà una serata estremamente piacevole. E se poi ci saranno delle pelle diapositive da vedere, tanto meglio, e di questo ne sono sicuro, vero Luca? Ma ero convinto che mi avreste chiesto di parlare di Medioevo, essendo io di formazione un medivista. Io però in realtà volevo parlare anche un po' del mio lavoro e del Museo Leone. Quindi allora parlerò delle collezioni medievali del Museo Leone, così riusciremo a integrare tutti e due gli argomenti e spero che la serata sia interessante. Parleremo di come Camillo Leone divenne collezionista, di cosa sono le collezioni medievali del Museo Leone e vedremo attraverso le diapositive l'evoluzione del Medioevo vercellese e di come questo Medioevo vercellese si è poi conservato nelle collezioni del Museo Leone. Grazie. Grazie.